Primo video della nuova season di Fortnite, partiamo dall'isola Squalo dove ci dovrebbe essere un cavo super mega incredibile Ci stiamo provando ad andare già da un po' però è pieno zeppo di gente Poi capita costantemente la tratta che è perfettamente sopra come in questo caso Ed è veramente difficile sopravvivere Però ci dobbiamo riuscire perché? Perché esiste una sorta di keycard che ti permette di entrare dentro il cavo Dove è pieno zeppo di chest e di conseguenza è molto interessante E lo vogliamo vedere Noi lo vogliamo vedere, vogliamo prendere loot, vogliamo vedere un attimino cosa ci aspetta Ma non ci riusciamo perché c'è troppa gente Quindi per favore player andate da altre parti, è pieno di zone interessanti Io sono altissimo Noi stiamo facendo il video, voi no, quindi lasciateci in pace Perché poi è pieno di bot che sono delle sorte di guardia della base In più ci sono i player che sono tantissimi e alla fine è un patatrack Solo un team? È difficile, è difficile Solo un team dici? Sì Come sembra un team, poi in realtà sono cinque No dai, non essere così pessimista All'SMG, ho visto una guardia qui sopra Anch'io Ok Ne ho ucciso uno Penso un sacco di gente che spara cattivissima Aiuto Ok Non si può aprire questa porta, cosa devo fare? Aiuto Ok, uno killato Niente, non l'ho preso quello là, aiuto, scappo Raga c'è gente cattiva, eh Ma molto, eh Sono arrabbiati, ragazzi Ci calmiamo qui? Lo spero che si calmino Ma do, raga No, raga, aiuto, aiuto Tranquillo Steffo? Sì Ma va? Eh, sono in mezzo A cose brutte Eh, un po' No, lo scagnozzo mi ha fatto Ah, non era lo scagnozzo, ok Allora No, perché mi fai saltare dell'ombrello? Ma perché c'è questa musica? Questo mi uccideranno Spero di farcela, spero di farcela Spero di farcela La musica è fastidiosissima, ragazzi, eh Ok, io ho restato marci Ok Raga, mi sparano, mi sparano Non ho materiali Non ho materiali, mi uccidono Raga, aiutate il ferie, vi prego Arrivo, ragazzi Sto arrivando Sto correndo Scappo Ok, ok, scappo, scappo Voglio, no No, Steph Ok, andiamo a restare Steph, ragazzi Eh, sono dietro Marche Ok Io però non ho vita, ragazzi Ti è sempre di qua Lo sento Grazie Mi fai quello tu Eh, meglio di niente, ovviamente Vai Qui da me, qui da me È lì Mark Ok, dai che sei un campioncino Non muore Eh, sta scappando Guarda, tessi rampini Eh, quello è il problema Che non è l'armacchino Ok Ok, sto arrivando Raga, qualcuno che dà una mano a Mark Eh, stiamo arrivando Eh, stiamo arrivando Stiamo arrivando È un labirinto È vicino Non ho neanche materiale Io sono andato sopra Sono andato sopra per vedere Ma non lo vedo Non lo vedo Ma che cos'è questo Che è davvero una gente Eh, va bene Decreto Ah, è qui È basso, è basso È una schiena coniglio Quindi sono almeno in due Raga Ok Ucciso Bravi Bravo È difficilissimo Muoversi Queste edifici No ragazzi Scusate il poco intrattenimento Eh, però No ragazzi È un'ansia C'è Over È la musica Che ti fa venirla Esatto Sì Perché non capisci più Niente quanta gente c'è Io ne sento sicuro Un altro Non so voi Mi curo Ok ragazzi Eh Sto tirando un medikit Che sono troppo basta Stas E un anche per te Ragazzi ho preso qualcosa Ho saccheggiato Hai tipo la carta arancione No Ok No la carta arancione la io Ok Sono sotto ragazzi Stanno scendendo al cavolo Loro Ma non hanno la chiave Teoricamente Eh infatti Però possiamo ucciderli Ok Andiamo Andiamo Quindi andiamo sotto Tutti assieme Tutti assieme Rampino Lo sentite Lo sento Scendiamo Aiuto No 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 Non fatevi beccato Qualcosa Occhio Occhio A la torreta Occhio A torreta Non sparate La 2000 Di vita No Bisogna spararla Per forza No Si possono disattivare Come Stratto Corso dritto E l'ho lasciata Perdere Come facciamo A passare Vieni Vieni L'ho rotta L'ho rotta Step L'ho rotta Ok Grande Marsi Velocissimo Quindi stiamo Entrando nel cavo Sì Stiamo entrando nel cavo Veloci Dai forza Step Lì c'è un bucino a pompa Se vi serve Vai 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 Sì Ok Ci siamo Ci siamo Apriti La rapina Sembra la rapina Di GTA 5 Bello Aprite queste cose Aprite Aprite tutto Uh bello questo Questo è mio Quello viola Step Sento rampina Occhio Ragazzi C'è un c4 Lanciato Occhio Maledetto Il fame Di uno Step C'è una R buono Ma ha rubato Step Perché Un R blu Ragazzi Hanno restato Gente Perché questo R dorato Va bene Perché era di Step Andiamo Col c4 C'è il c4 Ma c'è la mia Skin Rende dorato Qualunque Cosa Io tocco Ragazzi Ho trovato Trappolino Ci credete Ma dai Davvero Sì Step Andiamo Studi Perché tutte Queste cose Hanno il bagno E io vorrei salire No raga Sono entrate in un bagno Soffrendo Sono finita fuori Dall'isola No Passi sopra di noi Sopra di noi Raga Aspetta voglio rientrare Dal Niente Niente Non posso rientrare Dove rifarmela a piedi Scusate Maledetti Passaggi segreti Ho battuto in una c4 Punto altro c4 Step Eh Su Andiamo tutto Silenzio No raga Non capisco Nulla Perché qua Non possiamo Spaccare Ragazzi La zona No la zona Ragazzi abbiamo Lo spara bende No non l'abbiamo preso Ragazzi Prendiamo la nave Prendiamo la nave Vai Prendono lo spara bende Anche io Aiuto Aspettatemi Ragazzi Mi prendo Correte Fanciulli C'è una nave Qui di fronte a me Ragazzi Vai 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 Parti 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 Mi sparano Mi sparano Compro io Compro io Vi andate Salta Io e Marco Siamo andati Dove siete E ci sparano No Marco Sono andate No Continua a guidare Aiuto Si è caduto Speri aspettami Ragazzi La fine Qua Dove sei Riparti Riparti Mi hanno sparato March Speri Dal volante Vai 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 Andate 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 Fa niente Fa niente C'ho i miei di kit Ok Ma povero Marci Ma ditemi voi Quei bambetti Fermi sulla montagna Cioè a prendere me Sì ma Preso anche me Ma io sono sceso dalla Sono sceso dalla barca Sono sopravvissuto perché mi tiravo alle bende Mentre mi laseravano Non potevo fare altro Non potevo fare altro Pensa a te Fa niente Dai fa niente Andate voi amici Raga E' proprio per famiglia questa season E' proprio bellissima Mamma mia Zero tryharding No Ma figurati Cos'è quella roba blu Non lo so La chiappi Mamma mia ragazzi Ah sono le cose di Expo Ok Ok No mi stai sparando No Marci Marci sopravvivi Corri Marci Ma perché ce l'avete con me Ma vabbè E vabbè Trigger E' proprio andata per levare ragazzi Ma poi si ricorda che sai E' la partita di prima Ah io sto messo benissimo Cosa Perché non posso uscire Perché non vedo la vita di fare Raga mi sono E' bellissima dorata eh Ok ce l'ho fatto Mi incastravo della barca Tu rendi tutto dorato E' lo sparabendio Steph Infiniti No io vedo 10 vedo No ragazzi Io ne vedo una Ok ma c'è tipo il limite di rigenerazione Tipo c'è 5 il limite Se non mi sbaglio L'hanno aggiunto All'inizio non c'era Però non me lo scrive Io vedo Tipo adesso vedo che ne ho 2 Io 10 vedo Noi ne vediamo 10 Infatti non capivo Oh cose strane Io non so perché non vedo la vita di fare nel party Eh Steph Io ho 100 di vita e 76 di shield Così lo farai Ah io lo vedo E hai shield per me No me lo sono tirata Io non avevo un botto Le cose le condividono No no per e Steph Davvero Lutta qualcosina e stai zitto Pensiamo solo a noi stessi Va bene Ok siamo quel tipo di famiglia A fare Esatto Quelli che obbligano i figli a fare i dottori Esatto Ragazzi I dottori con le sparabande Campione Cos'hai pensato? Fareci a una scar Rendimelo dorato Allora Allora Che sarebbe stata una roba troppo P Perché trasformava in leggendare le armi Ah no 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 E' solo l'estetica E magari Ti immagini Magari Sarebbe stato P Ragazzi Vabbè Solo Marco può pensare a queste cose Allora Steph Steph Ecco perché Marco diceva che era sbilante Sì 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 Ho capito anche io dopo Penso sia un botto Cosa ridete ragazzi Uno può anche non comprendere alcune cose Fede tutto ok? Sì Penso sia un botto Non lo so Sicura? Si nasconde Quindi non lo so Sta dietro il camioncino del van Tu dalla tua visuale Se t'affacci dovresti prenderlo Perché sta opposto a me Aspetta Vediamo Vediamo Ma lo sto usando? Arriva l'altro Ma è quella in serie? Esatto Sì sì Eravamo più per due punti opposti Ma io non la vedo col nome sopra Ma raga non lo so È tutto un bug È tutto un bug C'è una season in mezzo ai bug raga È normale che all'inizio ce ne sono sempre Andiamo Andiamo La porta qua rotta Bellissimo Vero? E poi ho notato che io pensavo fosse elutato Invece no Perché vedi che ci sono anche le ceste Bellissimo È proprio rotta così Bella Molto bella Bello 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 Vorrei dire Perciò un SPG plus Ti serve Non so Ma hanno aumentato il drop delle ceste Ma guarda non lo so Vedo roba OP per ogni volta che tocco una ceste Sarà la mia skin Rende tutto oro Eh sei proprio un campioncino Eh lo so Io comunque non vedo nuove armi Eh esatto Sono stato truffato C'è una nuova zona C'è una nuova zona C'è una zona sulla nave Eh beh ovvio Che ha delle armi OP ragazzi Anche sulla nave Ok Hai visto dove stanno i player Sì 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 Lì sopra Mi sto arrugginendo Io sapete cosa rivolgo ragazzi Le girosfere No ragazzi Ha detto mi sto arrugginendo Perché è entrato nell'acqua Esatto Io infatti ho detto solo Ah Non ho espresso nessun altro tipo di sentimento o di parere Non dovete farci caso ragazzi Pensate solo che questo è il quartier generale Bellissimo però raga È pieno di gente Steph qui dentro Vero? Ma tantissimi È come Tilted Che quando vai è pieno di gente Ma tipo quanti sono secondo te? Molti Ma da 1 a 10? Ne ho visti sopra Sicuramente un team anche sotto Eccoli pro player Sì 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 Questo è un campione raga Ma da dove? Come da dietro? Dalla montagna e da dietro No no qui dietro proprio In due vi stavano sparando È la nostra fine Eh Steph questo è quasi morto Eh L'ho laserato parecchio Però è scappato E tu si stia tirando le bende O sei tu? No No Steph Raga non ci capisco più nulla Ma se volete fare i costruttori In la vostra vita Andate a costruire Che almeno create del lavoro Per il mondo Invece che giocare a Fortnite Non vi sopporto Io me ne torno in creativa Io torno in creativa Vado a fare Vado a fare Cerche di struggi C'è fiere C'è fiere Dove non si può pillare Ma io me ne vado via raga E vivrò meglio Per me tasca Alla mia targhetta L'hai abbandonata Dove è la tua targhetta? È pieno di gente Lì sopra Che vuoi? Un vero 007 andrebbe No Un vero 007 Ti mollerebbe lì Steph Dove sta? Esatto che sì Perché le scale Gli hanno parati i colpi Vabbè Manco Quelli che hanno ucciso me Ragazzi Assi o due Raga Quello era un colpo di arco? Sì Sì Bello Hanno rimesso l'arco? Bello Hanno rimesso anche la minigun Forse Perché nel 3 c'era la minigun E c'è lo scar silenziato È pieno di armi Wow Bello Boh Vabbè E scopriremo pian piano Ragazzi Ci fermiamo così Per questo primo video di Fortnite Ne faremo sicuramente altri Vediamo un po' Quanto interessante è la season Perché al momento Non è che abbiamo capito molto Esiste davvero il tuo migandorato L'ho appena visto Qua sotto come sempre Come per altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao Ciao